Dopo 20 anni di gestione privata, il patrimonio del Comune è affidato alla partecipata Napoli Servizi. È uno dei passaggi più significativi del bilancio dei primi 18 mesi di attività dell'assessorato al patrimonio presentato da Sandro Fucito, una svolta che ha inciso notevolmente su un settore nevralgico dell'amministrazione, oggi governato da un sistema di controlli più efficace, con un risparmio di circa 5 milioni di euro per le casse del Comune. Maggiori risorse reperite con l'eliminazione di fitti passivi e ospitalità alberghiere saranno destinate alle politiche abitative, tra l'altro con misure a sostegno dell'amorosità incolpevole e per un albergo sociale che darà ospitalità ad oltre 200 persone senza casa. Siamo il Comune che sostiene attivamente l'amorosità incolpevole, abbiamo predisposto delle risorse, non aspettiamo il governo che latita, abbiamo normato una forma di albergo sociale, 300 mila euro pochi, per carità in passato avrebbero ospitato solo 15 persone in un albergo a 51 euro al giorno, oggi con 300 mila euro noi cerchiamo di dare una risposta almeno a 200 persone in un rinnovato patto di collaborazione tra il privato sociale, chi vorrà partecipare, il Comune e gli occupanti stessi per non lasciare nessuno indietro, per offrire dignità e cittadinanza alle persone. E sul tema casa, prioritario per l'amministrazione comunale che consegnerà prossimamente 350 nuovi alloggi popolari, si è soffermato anche il sindaco De Magistris. C'è un'emergenza abitativa nel paese, la casa è una priorità, l'ha detto anche Papa Francesco recentemente, è un'insensibilità nei confronti dei più deboli da parte del governo che si preoccupa più delle forniture delle armi che delle case, è un fatto di priorità, quindi continueremo una mobilitazione nazionale, soprattutto all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ma anche come città di Napoli. Importante l'intervento di recupero e riqualificazione che ha interessato l'ippodromo di Agnano e il polifunzionale di Soccavo, mentre sono previsti i progetti anche per il polifunzionale di Piscinola. L'assessore Fucito ha ricordato infine le attività messe in campo nel settore dei cimiteri cittadini. Ripristiniamo il trasporto pubblico cimiteriale, creiamo gli allargamenti, confischiamo i beni acquisiti illegalmente, cerchiamo di fare la cremazione. Grazie.